Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale YouTube. Quest'oggi vi presento il Memotech MTX500. Il Memotech MTX500 come MTX512 è un computer originario del Regno Unito basato sul famoso processore Z80. Il computer venne prodotto a partire dal 1983 e aveva a bordo nella versione 500 32 KB di RAM e nella versione 512 64 KB di RAM. In ogni caso la RAM poteva essere espansa internamente attraverso la tecnica del bank switching. In particolare questa versione qui che vedete è la versione tedesca con la tastiera Quartz e appunto permetteva anche l'inserimento dei caratteri quelli dell'alfabeto tedesco tra cui la O, la A, la U e altri caratteri appunto dell'alfabeto tedesco. Il computer integrava al suo interno un compilatore assembler un assembler un disassembler e anche un interprete basic. Il chip video era lo stesso chip utilizzato anche negli MSX e il chip sonoro era il 76489 della Texas Instruments. Era possibile inoltre caricare il sistema operativo CPM attraverso un apposito modulo floppy che poteva essere collegato al computer per appunto caricare da floppy da 5.25. Se diamo uno sguardo alle porte posteriori del computer possiamo vedere che ci sono due porte joystick e la porta cassette stile Spectrum con i due connettori jack per collegare il registratore una porta stampante Centronics l'uscita RF per collegare il computer a un televisore l'ingresso appunto per l'alimentatore che è questo qui che ha l'interruttore di accensione e spegnimento a lato l'uscita audio e l'uscita videocomposita e cosa interessante è la presenza di due porte seriali RS232C il case del computer è completamente realizzato in metallo potete vedere appunto la parte posteriore dove è presente anche il numero di serie potete vedere versione 500 e il numero di serie corrispondente e qui c'è scritto appunto che è stato prodotto in Gran Bretagna qui a lato possiamo vedere un'altra, un'ulteriore porta di espansione presente nel computer tramite questo connettore qui e appunto potevano essere collegate anche delle cartucce ROM per estendere appunto con altri linguaggi di programmazione oltre ai 24 KB di ROM presenti nel computer che contenevano appunto l'interprete basic nella confezione originale era anche presente il manuale del computer la pubblicità se l'utente voleva acquistare la stampante qui era la pubblicità della stampante e una cassetta appunto con programmi dimostrativi demonstration tape questa qui il cavo video per collegare il computer e il televisore il cavo RF l'alimentatore e questa qui è la scatola originale del computer MAMOTEC MTX500 va bene spero che questo video vi sia interessato e vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale YouTube e vi do appuntamento ad un altro video